Uedì, Federico rompe il silenzio sulla scelta tra Alice, ho paura di farmi male. Federico Nicotera rompe il silenzio sulla fatidica e attesa scelta finale da fare a uomini e donne. Tra Alice e Carola, le due pretendenti giunte al rush finale. In una nuova intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Canale 5, il giovane tronista ha fatto un bilancio di questa sua avventura e non ha nascosto che. A poche puntate dalla sua scelta finale, teme di potersi beccare una batosta da parte delle sue pretendenti. Nel dettaglio, Federico Nicotera dallo scorso settembre sta portando avanti la sua avventura nello studio di uomini e donne ed è giunto ormai alle battute conclusive. Da un po' di tempo, infatti, il giovane tronista ha scelto di focalizzarsi su Carola e Alice. Le due corteggiatrici che sono riuscite a far breccia nel suo cuore. Una delle due sera la scelta finale, intervistato dal magazine 2D, Federico ha rotto il silenzio su quelle che sono le emozioni e le sensazioni che prova in questo momento. Il tronista non ha nascosto che, durante il suo lungo percorso in studio, non sono mancati i momenti di difficoltà ma nonostante tutto, non ha mai preso in considerazione la possibilità di lasciare la trasmissione e rinunciare alla scelta finale. Così come hanno fatto Federica Aversano e Federico Dainese nelle scorse settimane. Ci sono stati dei momenti di incertezza quando mi sono reso conto che una conoscenza stava diventando altro. Ha svelato il tronista, aggiungendo che per lui non è stato affatto facile riuscire a relazionarsi con due persone che gli piacciono. Pensavo di riuscire a gestire più facilmente delle conoscenze parallele. Temo di ferirle o di farle stare male. Ha messo il giovane tronista ormai ad un passo dalla scelta finale. E, in merito a quello che succederà nel corso della giornata in cui sarà chiamato a svelare la sua scelta in studio. Federico non ha nascosto di temere una possibile batosta. La mia pura è quella di farmi male, ha svelato il tronista svelando di essere sempre stato una persona particolarmente razionale. Eppure, questa volta, Federico ha ammesso di voler seguire ciò che gli dice il cuore e non la testa. Motivo per il quale la sua sarà una scelta di pancia. Sperando di non prendere batoste, ha chiusato ancora Federico che a quanto pare teme di restare deluso da questa scelta finale tra Alice e Carola. Le sue paure si riveleranno infondate. Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di UED. Gratate per la sua scelta. La scelta è andata. La scelta è un'altra scelta. La scelta è un'altra scelta. Le schiore le scelta sono un'altra scelta. Grazie a tutti.